segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ora la domanda è ed è non è nemmeno tanto una provocazione guardi in questa finanziaria salvini ha chiesto in maniera forte e la meloni da ben romana com'è ha detto lo famo lo famo lo famo che è che deve fa il ponte sullo stretto sapevo che sarebbe andata certo è ovvio e che costa 15 miliardi si chiede di tagliare sanità e quant'altro lo famo lo famo per accontentare salvini cioè vede questo è un governo totalmente inadeguato scrivere norme gli vengono imbocciate non è in grado e allora sono terrorizzato ad affrontare in questi ultimi minuti allora facciamo così un tweet sala ma non accontenta salvini è un'infrastruttura di cui se ne parla tanto il ponte sullo stretto non è solo quella tanti sono i cantieri da prima nel nostro stato in ogni caso io penso io penso che la linea che sta portando avanti il governo è comunque una linea positiva non è la con accontentare tizio o caio stava nel programma ancora quasi al quale stiamo realizzando il programma mi pare che non lo stiamo realizzando e poi qui è